Questa linea si compone di 6 shampoo che hanno la caratteristica di essere tutti leggeri e non aggressivi nei confronti del capello. Il primo shampoo che risale a una ricetta del 1924 è quello alla mandorla che ha la caratteristica di essere morbido e adatto a quasi tutti i tipi di capelli, infatti è quello che viene utilizzato maggiormente all'interno del negozio. Poi abbiamo uno shampoo all'overum molto particolare nella fragranza e che ha la caratteristica di essere abbastanza leggero e non aggressivo nei confronti appunto della cute. Poi abbiamo uno shampoo alla camomilla che è adatto ai capelli più chiari, uno shampoo alla noce che invece si adatta maggiormente a dei capelli che hanno la tendenza a diventare grassi. Infine abbiamo due shampoo che sono anche loro neutri come quello alle alghe e quello alla malva. La malva si adatta a dei capelli più sottili e più fragili, mentre le alghe che sono adatte anche a un capello sottile può essere d'aiuto se per caso c'è una presenza di forfora. Poi abbiamo il balsamo alle erbe che è molto delicato, non unge particolarmente il capello perché il problema dei balsami può essere quello appunto di appesentire troppo i capelli. Punta di diamante per la nostra linea per la cura dei capelli è la luzione al capsico mentolo, che è una luzione che deve essere utilizzata a capello ancora umido, dopo che viene lavato con lo shampoo appunto e se si vuole il balsamo, devono essere messe poche gocce sulla cute e deve essere frizionato in maniera molto vigorosa. Il capsico è un particolare peperoncino che avendo un effetto di vasodilatatore permette di far sì che la circolazione sanguigna sotto il cuoio capelluto torni ad essere più vivace, quindi questo permetterà poi di avere maggior ossigeno ai bulbi e al capello di respirare meglio. Invece il mentolo dà questa sensazione di leggerezza. Sempre nella linea per la cura del capello abbiamo tre prodotti specifici che fanno parte solo della linea professionale per il momento. Si tratta di un olio per capelli che noi definiamo olio rosso per capelli. Ha una doppia funzione. La sua prima funzione con cui è stato studiato è quella di ripulire la cute da tutti quelli che possono essere le scorie che si sono depositate su di essa. E questo deve essere fatto prima del lavaggio. Può essere anche utilizzato come impacco sui capelli e nel caso i capelli siano particolarmente sfibrati, però qui deve essere messo dopo che sia fatto lo shampoo. Poi abbiamo un gel che noi definiamo gelfico nero, che permette di dare una forma, una capigliatura rispetto alle esigenze del cliente, non esagerando però con quello che è l'effetto lucido. Per chi invece volesse avere questo effetto quasi pomata, abbiamo una cera molto potente che permette di dare qualsiasi tipo di forma a si desideri. Questi prodotti facendo parte della linea professionale sono acquistabili solo da barberie o barbieri che fossero interessati ad avere una linea di qualità come possono essere quella dei nostri shampoo del basso. Grazie a tutti.